Benvenuti e bentornati su Strategia IT. Oggi siamo in compagnia con Giulio Michelon. Ciao Giulio. Ciao, ciao. Chiedo, come a tutti, di fare una breve presentazione. Tu sarai esperto ormai di pitch, immagino, e di raccontare chi sei, cosa fai, sei amministratore delegato, come si suol dire, se o quanto vuoi, di un'azienda da quando avevi 22 anni, se non bado errato, che è Belka. Raccontaci un po' in cosa consiste e perché hai avviato e con chi hai avviato questa attività. Sì, beh, allora, grazie per l'invito. Io sono appunto Giulio, sono attualmente amministratore delegato che poi è il capo delle magagne di un gruppo di banditi che si chiama Belka. Siamo un'azienda che si occupa di far crescere altre aziende, quindi lavoriamo a fianco di società, soprattutto di software, per riuscire a guidarle tramite un processo di design, a prendere delle decisioni strategicamente più intelligenti sulla parte di execution, per fare in modo poi che anche tutta la parte di delivery, quindi la parte di software, che costa tanto, che è sostanzialmente il core di quelle aziende, ma sappiamo tutti che fare software è drammaticamente costoso e complicato, gli aiutiamo a fare meno errori. Questa è un po' la promessa da cui partiamo. Tutta questa avventura nasce dopo una mia esperienza in Silicon Valley. Io ho vissuto lì per qualche mese, ho avuto la fortuna di avere questa offerta da un professore dell'Università di Trento, dove io ho studiato, di soggiornare a San José e lavorare per una piccola startup che c'era lì. Lì ho visto, vabbè, un sacco di errori, ma perché come tutte le aziende appena partite succede sempre un sacco di casini, ma ho avuto la possibilità di vedere la Silicon Valley del 2013. Sono capitato a Startup School, ho visto Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Paul Graham. È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Questa è sempre una di quelle frasi che quando la senti detta da altri sembra una roba esagerata, ma è stata veramente un'epifania per quel che mi riguarda. Quando sono tornato in Italia mi ero reso conto effettivamente dell'impatto che stava avendo il software nel mondo. Ho detto, ok, voglio partecipare a questa cosa. Ho coinvolto un paio di colleghi dell'università e da lì siamo partiti. Abbiamo fatto un po' di progetti che sono andati tutti male, perché abbiamo provato a lanciarci a fare prodotto senza esperienza, che è una follia. Dopo aver sbagliato un po' di volte per finanziarci, abbiamo iniziato a lavorare con altre aziende molto sulla parte di execution. Sostanzialmente eravamo operators esterni all'azienda e con poche capacità di design, poche idee sulla strategia, ma perché neanche noi avevamo quel tipo di competenza. Con una triennale informatica i miei soci e io con una quasi triennale informatica non vai distante. E negli anni poi ci ha permesso in realtà la nostra capacità di autocritica, perché alla fine non è che ci sia tanto altro, di riuscire a crescere su questo. Quindi in realtà oggi Beck è una ventina di persone divise al 50% tra il team di design e quello di sviluppo, più una parte di videogiochi, ma ne parliamo volentieri dopo, che ha un tipo di mentalità, un tipo di approccio e problemi completamente diverso e lavora con i migliori SaaS in Italia. Lavoriamo con Fatturing Cloud, Wallians, Spedire.com e aiutiamo il loro team a prendere decisioni migliori e a essere più efficaci sulla parte di execution, misurando poi quello che succede dopo. Ok, hai già introdotto molti temi. Una cosa che subito risalta e che visitando i vostri asset tecnologici, i vostri siti, la vostra presenza online risalta, è che avete questo spin-off, queste due nature, diciamo, chiamiamole così, da una parte dite di creare esperienze digitali, prodotti digitali, diciamo così, e dall'altra Strike Games, che invece è quella che si occupa della parte di app relativa al gaming, da quello che ho capito. Quello che io precedentemente ho intervistato anche Omar Caffini, che dicono noi facciamo app verticali su questi aspetti. Voi come fate a dividere e a far convivere queste due nature o se l'intenzione è farle convivere oppure andare poi in una direzione, maturare in una direzione rispetto all'altra? Ma allora è stato molto difficile, nel senso che Belka... E nel frattempo può introdurre, scusa l'interruzione Giulio, il fatto di questi due cani sovietici. Sì, stavo pensando la stessa cosa. No, allora Belka e Strelka sono i cani che sono andati nello spazio dopo Laika. Laika la conosciamo tutti, quello che forse non tutti sanno è che non ha fatto una buona fine, Laika non è mai tornata sul pianeta Terra, mentre Belka e Strelka sono la prima coppia di cani ad andare nello spazio e tornare vivi sulla Terra. Poi hanno anche fatto i cuccioli, li hanno regalati a Kennedy, una storia bella. È già un buon aspicio, insomma. Esatto, ci sembrava che portasse fortuna e abbiamo detto dai, se dobbiamo scegliere un nome, una direzione, ci piace. Poi comunque è un progetto folle, cioè mandare dei cani nello spazio è un progetto, soprattutto all'epoca, completamente fuori di testa e mi sento che... di empatizzare molto con questa follia di fondo perché abbiamo deciso di aprire un'azienda tecnologica in Italia, insomma. Poi sono delle cose che si dice, sono un po' da boomer forse, dire ecco, aprire un'azienda in Italia è impossibile, però la verità è che comunque è molto difficile. Quindi ecco, con questo spirito di provarci, mettersi in gioco e partire, questo è un po' lo spirito con cui siamo partiti anche noi. Per quanto riguarda Strelka, in realtà è fedele alla prima ora di Belka, in cui noi abbiamo provato a lanciare dei prodotti digitali senza farcela, perché la verità è che abbiamo fallito completamente quello che abbiamo provato all'inizio e nasce dalla volontà di capitalizzare l'esperienza che noi abbiamo fatto lavorando anche per gli altri, perché chiaramente ti porti un bagaglio di errori, che poi sono di fatto cose che impari, oltre a cose che noi abbiamo studiato per evitare proprio di farli tutti gli errori. Siamo comunque molto bravi, ma cerchiamo di farne il meno possibile. Inizialmente è partita con un toy project, abbiamo lanciato Tricky Traps, che è quest'app che per chi è nato negli anni 80 è quel gioco giallo con una biglia che scendeva, ed è andato molto bene in termini di numeri e molto male in termini di monetizzazione, nel senso che si è fatta quasi 100.000 download e abbiamo ricavato quasi niente. Però ci è piaciuto e siamo tutti giocatori, quindi abbiamo detto ma potrebbe essere molto interessante spendere l'expertise che noi abbiamo maturato in questi anni per far partire qualcos'altro. Inizialmente non è andata bene, nel senso che abbiamo pubblicato dei giochi che fino ad adesso hanno fatto anche qui buoni numeri di pubblico, anche Circle of Sumo ha superato i 100.000 giocatori attivi. Circle of Sumo è un gioco che oggi è online, è fatto completamente da noi per la parte di sviluppo, mentre per la parte artistica lavoriamo con uno studio di Roma che si chiama Yonder. Il fatto è che non stava ingranando come azienda, cioè il prodotto aveva una buona riuscita per i giocatori ma una pessima uscita come business. E la scelta che abbiamo fatto a un certo punto è stata quella di dividere la testa dell'azienda in due. Noi siamo tre soci che però in realtà lavoriamo come board assieme a Pietro De Grandi che è stato il nostro primo dipendente, lavora ancora con noi e ci siamo divisi le responsabilità. Per cui io e Luca gestiamo Belka e Giovanni e Pietro gestiscono Strelka. Da quando abbiamo fatto questo passo in realtà le cose funzionano molto meglio. Semplicemente ci diamo degli update su delle metriche che abbiamo valutato come le più importanti, ma abbiamo iniziato a ridurre l'overlap di ruoli sulle persone. Quello che ho visto nel tempo è che più cose hai da fare a una persona, peggio le fa. Questo parlo soprattutto di me stesso perché poi il capo che va a dire queste cose sembra sempre che se la prenda con gli altri. La verità è che io lo vedo soprattutto su me stesso, perdi focus, sbagli. Non so, ci sono dei momenti in cui... Molte volte stiamo parlando a voce alta in realtà. Sì, esatto. E quindi nel momento in cui siamo riusciti a dividere chiaramente i ruoli e a mettere delle persone che effettivamente hanno le capacità e vogliono riuscire in questo progetto, le cose sono molto migliorate. La grossa differenza tra Strelka e Belka è che mentre Belka lavora per gli altri, Strelka è un prodotto nostro. I progetti che facciamo per Strelka non sono mai contoterzi e su quest'anno abbiamo un progetto molto ambizioso che è un gioco multiplayer online che si chiama Lizarders ed è un progetto gigantesco sul quale ci stiamo veramente misurando con il resto del mondo, ma non del tipo vediamo dove arriviamo, ma i giochi sono come i film. Quindi il mercato è globale, non c'è un mercato Italia, non esiste, è una favola che ti racconti. Ci sono al limite dei continenti, ma la verità è che Oriente e Occidente più o meno. Nel senso c'è l'Asia e poi c'è il resto del mondo. Una cosa che, data la mia ignoranza sul mondo del gaming, ti volevo chiedere un paio di domande. Ad esempio, di che giochi stiamo parlando dal punto di vista tecnologico, in che destinazioni, in che console arrivano e poi anche di quali numeri vanno fatti per vivere anche solo dei giochi, insomma, in che mercato ci posizioniamo. Allora, io ti racconto quello che facciamo noi per rispondere alle domande in fondo che erano generiche. Allora, quello che facciamo noi sono giochi, multiplayer, online, e abbiamo iniziato con questo nuovo per PC. In realtà, Circle of Sumo è uscito anche su Nintendo Switch, nasce per la Nintendo Switch perché, essendo multiplayer locale, Nintendo Switch ha già di default due controller e quindi ci puoi giocare con un amico, a differenza di PlayStation che ti chiede dei modici 70 euro a controller, quindi capisci che giocare con gli amici diventa molto costoso. Pensiamo sempre a dei ragazzi, non per forza di cose ad adulti, ma comunque 70 euro non sono propriamente due lire, mentre Nintendo Switch con la console di default ti dice puoi giocare con qualcun altro, quindi abbiamo provato lì. In realtà, Tricky Traps che abbiamo fatto iniziare come progetto, in realtà come scopriamo come funziona il mercato, è mobile, ma ci siamo distanziati dal mondo mobile abbastanza in fretta perché è un mondo che non risuona molto nelle nostre corde, vuoi perché siamo cresciuti con le console e i computer, quindi forse è un mondo che capiamo anche meno, ha delle logiche che non ci piacciono tanto, per cui ci siamo concentrati su quello che ci piace, su quello che pensiamo anche di riuscire a fare. Riguardo alle tecnologie noi lavoriamo in Unity, in realtà gli engine principali sono Unreal Engine e Unity, dove Unity è sui giochi un po' più piccolini e Unreal è su un po' le produzioni grosse, a meno che non sei Rockstar e fai GTA e magari il tuo engine infatti è finito interno allo studio, però diciamo che sta diventando un po' come l'open source, common ground per tutte le aziende, la parte di engine, per cui difficilmente un'azienda investe sul proprio engine se può comprare, è come dire uso Stripe oppure mi collego a tutte le banche e non hai nessun vantaggio competitivo collegarti a tutte le altre banche se tutti i tuoi competitor usano Stripe e Stripe nella vita come missione semplificarti quella roba là, cioè stai competendo con dieci anni di rendita in un'azienda che fa quelle e basta, quindi è un po' sciocco. Per quanto riguarda i numeri poi dipende molto dai progetti, ci sono ottimi progetti fatti da uno o due persone, ci sono CD Projekt che pubblica Cyberpunk che sono centinaia di persone, anche qui è un po' come i film, quindi ci sono i film indipendenti che vanno a Sundance e che ne hanno prodotti con mezzo milione di dollari e poi c'è Avatar, quindi in realtà la sfida che hai tu è sempre contro il tuo budget alla fine. Nel nostro caso senza scendere troppo negli economici, perché non posso, ti posso dire che il team di Strelka oggi conta cinque persone, quindi è che Elisaders che è il gioco a cui stiamo lavorando, è in lavorazione da un annetto e realisticamente ce ne vorrà secondo me buona parte del 2021 per riuscire ad arrivare in fondo, quindi ecco insomma fai pure la matematica ma è quello interessante, quello che mi interessava è se c'è qualcosa che condividete tra il workflow che fate per prodotti digitali e quello che realizza invece i giochi. In realtà ci abbiamo messo anche noi molto a rispondere a questa domanda, è una domanda molto più difficile di quello che sembra anche perché fare giochi è un mercato che somiglia tanto al software, quindi alle zampe palmate, fa qua qua e alle penne, però non è proprio una papera, quindi ci sono molte cose che puoi riciclare, molti concetti che puoi applicare, ma ha di fatto poi una dimensione artistica ludica sulla quale noi abbiamo deciso di farci aiutare perché è difficile, sappiamo, siamo molto bravi a far funzionare le cose in Belka, credo che siamo diventati molto bravi anche a misurarle e a capire su cosa le misuriamo o comunque ci muoviamo su quel campo da gioco, però divertente è davvero difficile da misurare, cioè è un livello emotivo che non basta che funzioni, su questo siamo stati molto fortunati perché la Milano Games Week di ormai tre anni fa abbiamo conosciuto questo studio che si chiama Yonder, loro sono veramente molto bravi in questo e ci stanno affiancando sulla parte ludica, sulla parte artistica perché poi sono cose che non è come dire far fare un dipinto un ingegnere e adesso ci arriviamo, arriviamo sul tema con grande simpatia per gli ingegneri, magari ben fatto, ben eseguito, ma non non è quella parte emotiva che poi è la parte artistica vera e propria. Quindi ecco, quella è la parte che siamo andati tra virgolette a comprarci fuori, mentre per tutto il resto ci sono molte cose che condividiamo. Certo, diciamo che io mi sento sempre chiamato in causa ma ormai non lo sono più da anni perché essendo lavorato in ingegneria elettronica quando dicono le persone hanno uno spettro dagli antipoti, dal razionale all'emotivo, l'ingegnere cerca di astrarsi e cerca di vedere le cose in modo distaccato e invece probabilmente chi progetta un'esperienza cerca di immergersi in una certa emotività per dare una sovrasemplificazione ma per fare in modo comprensibile. Grande simpatia per gli ingegneri. Comunque tutti gli ingegneri in ascolto. Allora, a parte quello volevo solo introdurre l'argomento principe di questo episodio che volevamo proprio trattare con te perché queste due nature ci permettono anche di fare diciamo dei discorsi o confrontarci ad alto livello sul design e come voi diciamo così la vostra offerta il design come si si include nella vostra offerta e anche nella vostra cultura nel vostro mindset perché volevi trattare un po' di questi temi che secondo me sono proprio ci stiamo entrando con tutti e due i piedi ad esempio mi introducevi e ne parlavi prima che il design ad esempio e la grafica sono cose abbastanza diverse cosa intendi per questo se ce ne parli un po' se ci introduci l'argomento sì questo è la battaglia più grossa contro la quale combatto per lo meno in Italia per lo meno con un certo tipo di aziende dove il design è la grafica che è fondamentalmente falso la grafica è come appare anche qui ha sicuramente un sistema di valori alle spalle questo non significa che la grafica sia semplice ma il design dell'interfaccia ha delle parti veramente molto differenti dal graphic design che è quello a cui tutti pensano quando si dice design in Italia design si traduce in italiano con progettare e quindi la metafora che uso di solito è che noi siamo molto architetti in questo quello che cerchiamo di fare è riuscire a razionalizzare i flussi fare in modo che le persone che usano un software riescano a raggiungere gli obiettivi ed è per questo che anche prima ti dicevo siamo molto razionali in questo e quindi la parte emotiva che poi invece per esempio su manufatti visivi come possono essere le interfacce o simili la parte di grafica è appunto l'ultimo miglio che ti permette di fare il 110% quello che gli inglesi dicono la icing on the cake la ciliegina sulla torta e quindi la grande difficoltà che io trovo almeno sul mercato italiano poi magari dipende anche un po' di clienti che ho incontrato fino ad ora è riuscire a spiegargli la differenza tra grafica e progettazione dove la progettazione ti permette di raggiungere degli obiettivi economici mentre la grafica tipicamente ti permette di raggiungere gli obiettivi un po' più sulla parte di branding sulla parte di motività sono delle cose che arrivano dopo e spessissimo ho incontrato dei clienti molto forti con una pessima grafica ma questo non significa che avessero un pessimo design e questa è una cosa che comunque spaventa perché ti faccio l'esempio del mondo software che cioè il costo di produrre software è abbastanza basso ma il costo di progettazione e anche manutenzione possibilmente è alto quindi se tu sposti diciamo concentriamoci sulla progettazione chi fa realizza qualcosa sa che non riesce ad avere il controllo di quanto probabilmente gli costerà perché il vero costo del nostro lavoro è quello di progettazione è corretto ma infatti in realtà è un'arma a doppio taglio dipende molto dalla situazione di business in cui ti trovi ci sono dei casi in cui devi fare da 0 a 1 e in quel caso molte volte progettare inutile cioè ci metti di meno a testare l'ipotesi di business direttamente sul codice che fare grandi cicli di progettazione se devi proprio testare il business ex novo se non c'è nulla sotto se è un mercato nuovo se vuoi fare semplicemente una prova lì probabilmente se la becchi la necessità ci sarà così tanto product market fit che non sarà neanche necessario progettare così tanto io l'ho visto tante volte con persone che ho incrociato che magari davvero mettevano su una landing page ci attaccavano un form di google form e convertivano come i matti e lì semplicemente bastava eseguirlo altri casi invece che ho incrociato e lì è dove siamo realmente efficaci e quando hai fatto da 0 a 1 devi fare da 1 a 100 se lì prendi scelte di progettazione errate è vero che scrivere codice costa meno che pensare prima di scrivere codice questo è legittimo ma ti troverai poi un debito tecnico o un debito di design alle spalle che dovrai affrontare negli anni successivi e invece di fare i passi successivi veloci ti troverai imbrigliato in una serie di scelte che hai fatto prima che non ti permettono poi di riuscire a scalare il prodotto questo chiaramente funziona come ragionamento se hai un SAS che può fare un buon profitto e se sei su un mercato veramente crowded però il punto è che non hai bisogno di nostri servizi se sei una cosa bootstrapped tutta no code che può partire per conto suo se invece effettivamente sei un prodottone sai che per riuscire a vivere contro tutti gli altri competitor devi effettivamente essere il migliore della classe è lì senza design quindi qua Giulio una provocazione stai dicendo chi mi ascolta no alle start up se hanno intenzione di fare un MVP sia chi invece ha una visione di lungo periodo vuole creare qualcosa di longevo e creare un business sostenibile ma allora quello che dice è sostanzialmente vero come Belka ed è sostanzialmente falso come Giulio nel senso che io nel mio tempo libero ho da un sacco di consigli veramente un sacco di gente ma perché personalmente mi entusiasmo molto io sono veramente un nerd del start up se tu mi spieghi un progetto veramente nel giro dei primi 15-20 secondi ho capito il business model il tipo di prodotto che stai facendo ne ho viste veramente tanti e mi piace davvero è la cosa che mi piace in assoluto di più quindi spesso mi ritrovo magari a dare consigli non sempre riusciamo ad essere utili come Belka ma perché la parte di execution che facciamo noi significa mettere su un team di 2-3 persone e lavorare magari 2-3 mesi che per una start up è uno sforzo completamente folle ma oltre che folle non ha senso da un punto di vista di business cioè se il team non può eseguire la parte di MVP perché avete raccolto un seed round perché siete lì cioè a meno che non siete veramente nati molto ricchi e preferite farlo fare a qualcun altro perché il vostro tempo vale molto di più di quello che state facendo quindi non è una situazione tipo studenti garage Silicon Valley ma è più tipo non so sono nato molto ricco e vorrei far aprire una spin off della mia azienda allora in quel caso sì ti siamo utili ma altrimenti di solito quello che dico sono domande per capire se hanno veramente voglia di farlo quindi di solito gli dico ma se volete lo facciamo come bank se mi dicono di sì so che non hanno davvero voglia di farlo perché alla fine i primi 2-3 anni di una start up non c'è nessuna lingua che te lo spiega meglio del francese ti devi fare il culo cioè non c'è ti devi fare il culo e basta se non hai voglia non è il tuo ma che va bene non è che tutti devono essere imprenditori ti dico poi che io scrissi un anno o due fa un post sull'mvp dove misi proprio il tuo video su youtube embeddato perché come spiegavi tu che l'idea non contava nulla dopo ti metterò anche nelle note casomai quel post ero giovanissimo dovrei fare un video in cui faccio Giulio re-ex tu Giulio del 2000 sì perché come lo spiegavi in modo semplice diretto tu ho detto online non ne trovo altri quindi metto questo di Giulio e quindi stavamo dicendo appunto quindi il design come impatta nel business tu vuoi far capire questa cosa sai fare l'opera di pionerizzazione sempre pericolosa o intercetti i clienti che già hanno un'idea che di come lavorate quindi se un po' descrivi come lavorate e come fate passare il messaggio che bisogna focalizzarsi sulla parte del design ma allora io su questo generalmente lavoro per esempi ma perché è l'unico modo in cui riesco a capire le cose sono privo della capacità di astrazione che credo sia il motivo per cui mi hanno messo a parlare con gli altri perché spiego le cose in una maniera così semplice o almeno ci provo che lo capirei anch'io perfetto ora quando faccio un esempio di quanto vale il design in termini economici faccio l'esempio di un episodio che abbiamo avuto con fatture in cloud loro tra novembre e dicembre del 2019 mi sembra si sono scontrati contro la fatturazione elettronica ora da un lato è stato l'evento più bello della loro vita imprenditoriale perché sono cresciuti di 200.000 utenti in un mese cosa che sta nei sogni più esagerati di qualsiasi software as a service dall'altra parte gli stava esplodendo l'assistenza clienti nel senso che loro sapevano che sarebbe arrivata l'ondata si sono mossi per tempo hanno assunto più persone ma comunque sono aumentati di un ordine di grandezza per cui il problema era veramente difficile da affrontare e ci siamo misurati invece che partendo dalla grafica no? questa cosa è brutta quindi siamo partiti da dobbiamo abbassare i ticket per utente cioè la media di ticket per utente deve scendere e quindi abbiamo proposto tutto quanto in termini di problema di business e non di output grafico su questo poi abbiamo implementato una soluzione abbiamo progettato delle guide le guide venivano mostrate prendendo il primo messaggio capendo cosa cercava la persona proponendogli un articolo che fosse rilevante rispetto alla sua ricerca e facendo il conto della media pre-intervento e post-intervento abbiamo risparmiato una cosa come 3 milioni di richieste di assistenza ora fare della matematica economica su questo significa attribuire un costo per richiesta di assistenza che poi in realtà sono mancate assunzioni è un po' difficile però 3 milioni di richieste di assistenza hanno evidentemente giulio faccio una domanda semplice per te però forse non intuitiva perché si sta ascoltando come un cliente come Fattore in Cloud ha chiamato voi per quale motivo perché pensava che voi avreste avuto l'esperienza per risolvere un tipologio di problema come vorrei ma allora questo è il domandone che avevano già fiducia in voi vi conoscevano in realtà sì perché noi avevamo già lavorato con loro per quanto riguarda l'app noi avevamo ricostruito l'app che c'è tuttora negli store è il progetto più bello che abbiamo mai fatto questo lo dico sempre anche a Daniele che è l'amministratore lo ringrazio perché ci ha dato molta fiducia lui ci aveva incrociati perché l'app che avevano in produzione era diventato uno spaghetti code intoccabile stava per partire la fatturazione elettronica e sostanzialmente la sfida che ci ha dato è stato ricostruitela completamente avete sei mesi e deve supportare la fatturazione elettronica perché se io il primo gennaio tiro solo la sala cinesca virtuale del SAS e non supporto la fatturazione elettronica i clienti si arrabbiano noi abbiamo detto di sì perché comunque al di là della parte di design Belka ha un forte background di sviluppo software tutti e tre i soci ci siamo conosciuti a computer science non ci siamo conosciuti nella facoltà di design la parte di design poi è una cosa che è evoluta negli anni perché ci siamo resi conto che l'impatto che volevamo avere non era solo fare il codice era effettivamente far raggiungere gli obiettivi alle aziende con cui lavoravamo fare il codice non è semplice le persone che lavorano con noi sono molto preparate ed è difficile la parte di execution ma trovo che comunque sprecare il talento e il tempo delle persone che fanno la parte di execution con degli obiettivi poco chiari sia bruttissimo e inutile e non è quello che voglio fare nella vita la tua giornata quindi come si espletta cioè nel senso che tu non metti più mano nel codice oppure preferisci concentrarti sulla parte di design di assessment e anche fatture in cloud quando è arrivata e dovevate farla dentro sei mesi pensavate di rimpiazzare completamente quell'app o di sventrarla di cosa fare esattamente ma allora ti rispondo prima alla domanda facile quell'app era immantenibile quindi in realtà sono arrivati loro e ci hanno detto non c'è modo che quest'app sopravviva alla ricostruzione per la fatturazione elettronica quindi se la vogliamo rifare dovete rifarla da capo anche perché poi erano due codebase ci hanno chiesto di farla in react native invece che due app native perché in effetti è un'app che è piena di forme ma non ha bisogno di performance native su queste cose ci sono molti altri prodotti in Italia fatti con react native che funzionano molto bene mi viene in mente Valmone mentre per come è organizzata la mia giornata sì io non lavoro praticamente più alla parte operativa dei prodotti anche qui ci siamo divisi ruoli nel senso che Luca che è Luca Dinka che è il mio socio lui lavora molto più con la parte di operations quindi si occupa di far girare il lavoro nei team controlla che i team siano in tempo che abbiano chiaro gli obiettivi dei progetti che comunichino che non ci siano degli intoppi quindi lui fa un po' da broker delle informazioni mentre io sono un po' più verso l'esterno quindi mi occupo più della parte di comunicazione della parte di vendite e anche di strategia se vuoi nel senso che quando un cliente arriva soprattutto con il lavoro che facciamo noi non è una vendita semplice di base è su due step la prima è che il cliente si deve fidare perché giustamente anche tu mi hai detto com'è che il fattore in cloud è arrivato da voi e hai detto ma risolvi il problema di ticket il primo step che devi portare a casa è il cliente si deve fidare e questo è indipendentemente anche forse dal lavoro che fai che è una cosa che io ci ho messo anni a realizzare il secondo step è effettivamente fargli challenge sui problemi nel senso che a me capita che delle persone veramente brillanti arrivino da noi e mi chiedono fammi il sito che è una richiesta ridicola non significa nulla non è un obiettivo di business fammi il sito perché ti faccio il sito non vedo un sito non vedo un sito parte di un sistema un asset tecnologico esatto ma perché fai il sito ma perché è brutto ma quindi tu vuoi spendere non so 20.000 euro per fare un sito brutto per prendere cifre a caso che poi fra 5 anni sarà brutto di nuovo esatto quindi mi guardano di solito un attimo confuso e poi gli dico ma guarda se vuoi fare un sito perché non è bello ti do il numero di un'azienda che fa grafica e parli con loro se vuoi perdere tempo se no mi spieghi perché puoi fare il sito io ho perso molto diretto non ho paura di farmi di farmi un po' odiare in questi momenti ma perché trovo che se non c'è la volontà di mettere in discussione le cose di parlare da pari non riesci poi effettivamente a impostare i progetti e da lì in poi si lavora assieme nel senso che una volta che si è conquistato un po' di fiducia gli chiedi ok quindi vuoi fare il sito perché ok la gente non compra non riesce a capire perché non compra eh sì in effetti sì mi è calato il drop rate del 50% anzi è aumentato il 50% quindi spendo il doppio di NAD ah ok per quello vuoi fare un sito una volta che a me è chiaro quello lo passo alla parte operativa perché un po' il tentativo delle 5Y no? esatto sì 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 io comunque poi ho questo background di informatico mancato ma il mondo del design mi piace tanto e quindi è un po' quello il mondo tramite cui guardo le lenti però sono comunque un imprenditore per cui se non mi suona bene la parte di business non mi suona bene comunque l'impatto che vuoi avere mi metto di traverso finché non me la dici a costo di perdere i progetti perché poi vuol dire che stavamo lavorando ma senti Giulio non mi chiaro come però poi andate a fare lo spread della design mindset chiamiamolo così all'interno dell'azienda è un percorso che richiede tempo nel senso che a noi chiedono sempre di realizzare le cose si parte sempre da qualcosa di molto concreto da un problema da risolvere da un nuovo prodotto da lanciare o da ridisegnare da lì in poi un po' alla volta devi fare un processo di evangelizzazione per dirla con termini informatici ma semplicemente di pazienza poi perché si traduce tutto in questo e dimostrare anche tramite magari dei momenti che possono essere di workshop che possono essere comunque delle attività intermedie al cliente il tipo di valore che gli stai portando e insegnargli anche a riconoscerlo non semplicemente su siamo andati online non semplicemente su siamo riusciti a fare le cose ma che risultato ci hanno portato perché andare online è il minimo cioè 6 su 10 lo faceva anche negli anni 90 un sistema integrator completamente technology driven io voglio che tu poi riconosci che c'è stato un valore per il business e allora lì capiamo cosa stiamo costruendo e tu insistevi di dire lupo una tua frase una tua citazione lo sviluppo non è più engineering driven ma gli engineer chi si occupa della parte di ingegnerizzazione di software engineering è ancora centrale se questa la puoi un po' toccare piano no ma in realtà senza toccarla piano la parte di sviluppo è un problema tremendamente complesso e costoso perché non è vero che fare software è diventato economico è molto più economico di quello che era prima ma sbagliare software tuttora è molto costoso soprattutto in termini umani nel senso che io non voglio che le persone che fanno software che lavorano con me abbiano la sensazione di star lavorando a prodotti inutili e di star buttando via la loro vita perché poi questa è la verità quello che succede perché possiamo prenderla dalla parte dei soldi che è facile e agli imprenditori piace ma comunque ci sono delle persone sotto questa cosa che sprecano il loro tempo e che buttano via le loro giornate se dedichi il loro impegno su dei problemi inutili quindi quello che si è fatto per tanti anni non so se solo in Italia o anche nel resto del mondo perché poi io sono giovane quindi magari è un mercato che è molto simile anche fuori dall'Italia è che spesso siamo stati technology driven nel senso che la parte di sviluppo guidava ma questo perché non c'era nulla e quindi costruire era meglio di non costruire avere una capanna è meglio che prendere la pioggia oggi però è il minimo sindacale è quello e quindi riuscire a prendere decisioni informate rispetto a quello che gli utenti chiedono e non a quello che noi pensiamo perché poi attenzione sono gli utenti che comprano non è il board dell'azienda e se l'ego del board acceca la strategia dell'azienda l'azienda segue l'ego e va a picco con tutto il resto quindi per questo io dico design driven dove noi per design intendiamo le interviste con gli utenti è quella cosa che si sfuma un po' tra il marketing il design la psicologia alcuni richiamano un'analisi etnografica altri un'analisi di marketing sono tutte discipline che poi alla fine sono psicologia applicata a una serie di ambiti perché diciamoci la verità è quello il punto è che migliori sono le tue informazioni e più sono precise meglio riesci a prendere le decisioni e quelle decisioni poi si devono declinare su una progettazione che abbia senso se riesci a fare questo fai prodotti migliori degli altri se fai prodotti migliori degli altri ti vorrei come mio cliente perché vuol dire che possiamo lavorare ancora assieme a lungo e possiamo avere una relazione in cui tutti e due guadagnano tanto quindi c'è la vostra parte di assessment di UX design di test di usabilità e il vostro comunque background di sviluppo di design di prodotti digitali dove cercate la collaborazione cioè dove non vi sentite particolarmente forti ma è ancora una parte dove in passato puoi fare degli esempi che avete con cui avete collaborato ma allora noi siamo molto scarsi sulla parte di grafica io questo lo dico con grande effetto per i grafici perché spesso ci siamo appoggiati ma anche il nostro logo per esempio l'ha fatta una ragazza che si chiama Chiara Dalmaso è bravissima e non è interno sì anche io sono molto contento con il caschetto che è un buon logo e dopo lo mettiamo nella nota questo episodio perché vale la pena andarlo a vedere quello è veramente un ottimo lavoro che sono felice di aver delegato anche tutta la parte di illustrazioni brand identity collaboriamo con diversi studi anche qua a Trento ma per dire le illustrazioni sul nostro sito le ha fatte un ragazzo armeno si chiama Guga che abbiamo trovato su Dribbble semplicemente cercando delle cose che piacessero a noi graficamente poi abbiamo scoperto che era in Armenia e un giorno spero tantissimo di andare a conoscerlo infatti uno potrebbe dire siete forti nella grafica avete anche un account su Dribbble beh ecco sulla parte di Dribbble quella è UI sulla UI sì siamo capaci ma tutta la parte di illustrazioni tutta la parte proprio di graphic design che hard skill quella è difficile ma anche per dire l'identità a livello di tipografia del nostro brand l'ha fatta un freelance quello da un lato che quindi è proprio come ti dicevo la parte di delivery della grafica e su back-end complicati cioè se uno viene da noi e ci dice fateci un back-end scalabile per un miliardo di utenti vi dico guardate ragazzi vi faccio un'interfaccia volentieri ma per il back-end capiamo con chi lavorare perché non si è ok sulla parte diciamo DevOps più spinta sì esatto se c'è da fare una demo tecnica che include un back-end ma volentieri lo sappiamo fare però se poi mi chiedi di farla scalare a 10 milioni di utenti concorrenti ecco insomma parliamo con qualcuno perché invece ho visto che avete lavorato alcune domande che arrivano dal gruppo omonimo al podcast su Telegram mi chiedevano mi chiedevano che vedevano che lavoravate molto sul territorio per creare ecosistema quindi vorrei capire un po' quale iniziativa avete lanciato come riuscite poi a entrare in contatto con realtà che sono complementari a voi o comunque che sono uguali a voi dal punto di vista dei valori dei principi quant'altro allora ci sono tre cose principali la prima è dove abbiamo deciso di mettere Belka Belka è all'ImpactUp che è uno spazio di co-working qua a Trento questo ci ha permesso di conoscere tante altre aziende liberi professionisti c'è un studio grafico che si chiama comunicazione design con cui lavoriamo molto molto spesso ed è qua a due passi è veramente comodo quindi questo è il primo modo il secondo è stato per gli ultimi tre anni fare una cosa che si chiama Spec & Tech che tra l'altro adesso è diventato un podcast quindi questo è assolutamente autopromozione senza alcun tipo di vergogna e prima di essere un podcast in realtà siamo pro per la promozione no me lo dicevo per essere ancora più spacciato per tre anni abbiamo fatto una volta al mese un evento che appunto era qui all'ImpactUp dove chiamavamo un paio di persone della scena tech che vuol dire design imprenditoria sviluppo software ma anche risorse umane veramente di tutto abbiamo avuto il sito di Cloudflare una volta per dire un momento folle della mia vita completamente senza senso lui ha volato da Londra a Trento apposta per venire spec and tech e questo ci ha permesso di conoscere tante aziende ma soprattutto tante persone che avevano voglia invece che stare a casa di vedere non so per l'ennesima volta France di venire a sentire qualcuno che gli raccontava di Kubernetes il giovedì sera per cui sai che quelli sono quelli che sono comunque super appassionati l'università qui è anche molto buona la terza cosa abbiamo partecipato diversi anni a una roba che si chiama UX Challenge che organizza Abinnovazione Trentino che è un ente qui locale che è una sorta di hackathon del design e da lì abbiamo trovato veramente un sacco di studenti capaci abbiamo assunto parecchio da lì ma anche aziende con cui collaborare quindi queste sono le tre cose principali poi vabbè a me piace tutto quello che è mass media social media insomma cerco di essere attivo perché ne vedo il valore ho imparato veramente tanto da tanta gente che seguo online e un po' mi piace come si dice no give back e dall'altra comunque se nessuno racconta cosa fai nessuno lo scopre esatto quindi questa attività è vicepresidente di spec and tech immagino anche lo spec abbia un suo ruolo più o meno decisivo abbiamo anche delle opzioni vegane comunque la sera però l'aspettato c'è sempre la diversity è importante quello che volevo chiederti è sul territorio ho visto anche ultimamente che hai fatto quell'nvp che dicevamo prima un'app per le attività di delivery ad esempio lì come è partita questa iniziativa se anche sono degli esperimenti come fai a convincere le persone come ci investi dei soldi ma quello era un esperimento totale la verità è che un fine settimana io e il mio inquilino ci annoiavamo veramente tanto e quindi abbiamo detto vabbè c'è il covid non si può fare niente tutti i piccoli commercianti sono nei casini e quindi abbiamo fatto questa piccola app per sostanzialmente trovare chi faceva delivery nella zona di Trento e dintorni quello in realtà è stato un esperimento totale nel senso che è stata recepita da un punto di vista del pubblico molto bene c'è stato un articolo sul giornale abbiamo avuto comunque un bel po' di utenti infatti mi sono chiesto guarda che abilità di pubbliche relazioni che ha Giulio ma lì in realtà cosa vuoi Trento è un paesone per cui l'iniziativa è sempre affascinante l'iniziativa personale sì 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 grazie no poi come sempre ti dicevo l'importante è tenere una visione strategica o comunque di obiettivi avremmo potuto investire ancora in quel prodotto la verità è che le persone entravano una o due volte al massimo e poi non lo privano più io questo l'ho visto dalle statistiche ci ho messo gli analytics dietro ho detto beh vediamo se la gente lo usa questo è un bel modo per dire faccio una cosa che ha un impatto sociale quindi è positivo sono contento di farlo indipendentemente da come possa andare nel frattempo raccolgo qualche informazione esatto il punto è io non ho mai escluso di farlo diventare un business vero il fatto è che non c'erano i fondamentali cioè quel progetto ha fondamentalmente perso contro Deliveroo Glovo e tutto il resto ma io parlo anche in prima persona cioè un conto è dire me lo mandano a caso un altro conto è dire premo un bottone e arriva e su questo c'era proprio una value proposition rispetto all'esistente che mancava io ho fatto la mia prova ho comunque fatto questo totalmente a beneficenza nel senso che poi mi sono preso veramente una serie poi di giornate per censire tutti quanti perché poi ti scrivono su whatsapp via sms via email arriva tuo cugino con un pezzo di carta cioè mi hanno contattato in tutti i modi io comunque ho censito tutti ho aggiunto tutti però poi nel momento in cui mi sono chiesto ha senso di investirci ancora e la risposta era no purtroppo perché non funzionava come un business oltre a questa iniziativa la pandemia come come l'avete affrontato e se vi siete incominciate a fare un po' di esami di coscienza su come avete organizzato la vostra attività perché immagino che subito dispersi subito distribuiti e per quanto il nostro ambito sia diciamo così come la tecnologia ci viene naturale distribuirci però voi come avete come avete affrontato questo cambiamento ma allora Belka nonostante la natura tecnologica dell'azienda è sempre stata un'azienda molto locale cioè il fatto di essere a Trento l'ho sempre vissuto come un vantaggio nel senso che Trento è molto bella ha un'università molto forte e abbiamo una qualità della vita secondo me veramente molto alta quindi io non sono di Trento per chiunque senta il mio accento per più di 6 secondi è molto facile individuarlo ma il fatto di restare a Trento è una scelta molto forte e prima della pandemia non siamo tanti per cui si mangiava anche tutti assieme c'è una dimensione umana in Belka che per me è fondamentale non è risorse umane che quella roba un po' triste che ci sono persone e se da un lato è che quella economica che poi da imprenditore guardi subito abbiamo fatto abbiamo rifatto il budget appena siamo andati tutti a casa perché mi hanno detto vabbè ragazzi se qua la coperta inizia a stringersi c'è da capire come facciamo quindi abbiamo fatto uno scenario con dei teschi sopra abbiamo detto vabbè facciamoci un segno della croce speriamo che non sia quello vero ma se è quello vero capiamo come fare però la parte che veramente si è rotta è stata quella umana nel senso che c'è stato uno shock subito anzi che è arrivato dopo un po' ti dico il vero allora siamo diventati operativi nel giro di due ore cioè da quando è uscito il decreto legge quando eravamo tutti a casa con i computer le sedie ho detto ragazzi prendete quello che vi serve una scrivania portatevela a casa cioè fate quello che volete segnatemi su un foglio quello che vi portate sembrava di vedere gente che si licenziava e usciva col suo cassetto sì 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 no ma uscivano veramente con le sedie con gli schermi le tastiere cioè quello che vi serve se vi manca qualcosa me lo dite no quindi si vedeva la gente che usciva con le sedie e io ho detto veramente pigliatevi quello che vi serve se vi serve altro ve lo faccio arrivare a casa e fino a lì è andato tutto bene e il problema è che dopo tre o quattro settimane in cui siamo stati veramente iper produttivi perché poi gli strumenti di produttività li abbiamo già tutti online clienti a trento ne abbiamo pochi è molto raro e quindi mi sembrava di lavorare a un ritmo mai visto perché di fatto poi lavoravi sempre perché non avevi niente altro da fare e eri a casa gli strumenti per parlarti con gli altri erano so sistemi di ticket in giro trello quello che usi con il cliente il fatto è che abbiamo azzerato la dimensione umana cioè è stata una cosa veramente che a rivederla in retrospettiva è stata disumana ma infatti ci siamo fermati come azienda e abbiamo detto ragazzi c'è qualcosa che non funziona perché stavamo male e da lì abbiamo messo giù dei momenti sia di retrospettiva come team che prima succedevano organicamente andavi a pranzo assieme mentre bevi il caffè e gli dici ma che cazzo hai fatto con sto cliente ma ti pare il modo e non serviva a spingere l'informazione essendo adesso completamente remoti questa cosa qui la devi muovere tu a mano e se tu non chiedi come sta la gente finché non esplode non te lo dici il rischio del burnout dietro l'angolo altissimo c'è stata gente che io ho dovuto obbligare ad andare in vacanza mi ha scritto non sto molto bene l'ho chiamato senza fare nome uno dei nostri collaboratori e lui mi ha detto ma non sto molto bene non capisco non sono mai concentrato e gli ho detto ma senti intanto devi prendere settimana di ferry immediatamente e poi esci tutti i giorni questa settimana di ferry cammini un'ora al giorno e poi mi dici come stai immagino che voi avrete dei cani che vi fanno cioè compagnia no vorrei tantissimo dei cani tipo è bellissimo no ha un gatto questa persona comunque per cui un po' di supporto da quel lato e non vive da solo però la componente umana veramente abbiamo scoperto che era una cosa che noi davamo per scontato perché non abbiamo mai fatto fatica a far funzionare comunque siamo tutti giovani siamo tutti vicini veramente siamo un'azienda che comunque è un gruppone di gente che sta bene quello che voglio capire è se avete preso decisioni che secondo te percepisci che siano irreversibili nel senso che alcuni non so hanno chiuso la sede e hanno deciso di diventare remote friendly oppure altri hanno deciso di riorganizzare le risorse aziendali se voi avete preso in questo periodo le decisioni che pensate che per almeno un paio d'anni saranno quelle ma allora sono fierissimo di dire che non ho licenziato nessuno e che non c'è stato bisogno quindi il budget quello con i teschi non l'abbiamo neanche mai davvero aperto per quanto riguarda la dimensione dell'ufficio ci abbiamo pensato nel primo mese in cui ero in trans agonistica e si lavorava e basta ho scritto ai miei soci ho detto no ma ragazzi non ho mai lavorato così bene chiudiamo l'ufficio è una figata impazzito non ha alcun senso questa considerazione ma è prendere decisioni a caldo no? no ma infatti ma poi sono bravo in questo cioè anzi sono molto scarso e sono molto fortunato a lavorare con chi lavoro sia i miei soci che Pietro sono molto preziosi in questo e se un'irruenza da imprenditore loro sono molto più ragionati molto più riflessivi riflessivi sì diciamo che io ci porto l'entusiasmo e loro il cervello ma va bene così poi troviamo il nostro equilibrio il punto è un altro per quanto riguarda l'ufficio l'ufficio resta io credo che cambierà un po' come lo usiamo credo che diventerà un po' più tipo uno spazio di co-working tutti mi hanno chiesto di tornare in ufficio nessuno è felice di stare a casa tutto il giorno abbiamo fatto una retrospettiva anche di recente con tutti quanti ed è la cosa numero uno che mi hanno chiesto perché la dimensione umana ha un valore per quanto poi ci raccontiamo che il remoto risolve tutti i problemi del mondo sono fasi della vita ci sono persone per esempio che noi siamo tutti giovani per cui per esempio nessuno di noi ha figli sono convinto che poi perché arriveranno le persone saranno più comode a stare a casa magari vorranno stare un po' più con i bambini magari riusciranno a mettersi su una lavatrice le cose anche semplici ma sono convinto che la dimensione dell'ufficio continuerà ad avere un suo ruolo nella nostra azienda semplicemente non sarà più obbligatorio non che prima lo fosse c'era già della gente che lavorava magari due o tre giorni a settimana da casa perché magari viene da qualche valle un po' distante da Trento e ti devi fare i tornanti per venire in ufficio ma sarà un po' più tipo un co-working ti prenoterai il posto puoi venire oppure puoi decidere di non venire magari lo gestiremo un po' più in quest'ottica l'ufficio secondo me sarà un po' quel posto che nella tua testa è l'azienda ma non per forza è sempre il posto da cui lavori questa è la mia idea poi insomma so che su questo ci sono tante idee diverse sì da remoto bisogna fare molto over communication bisogna lavorare molto sull'inclusività su aspetti che ti vengono gratuiti in azienda e invece devi costruire e devi lavorare fondamentale perdi la gente per strada altrimenti perché finché non vanno in burnout è raro che la gente ti scriva chiedere aiuto che è una skill secondo me fondamentale non ce la insegnano nessuno a scuola ti insegna che se chiedi aiuto in realtà è una cosa positiva chiaro e senti andando invece un po' più sulla su una cosa interessante che voi da l'immagine coordinata di cui parlavi prima utilizzo termini in italiano così è bello ricordarsi anche della nostra lingua e anche del modo in cui comunicate tu se ti cerco su youtube trovo sempre il tuo TEDx che hai fatto cinque anni fa ricordo quando che parlavi di osare e raccontavi della tua esperienza imprenditoriale che era poco iniziata ti chiedo come tentate di comunicare il vostro valore che iniziative cercate di portare avanti perché in azienda sai c'è chi tenta di concentrare su se stesso sulla propria figura stile Casey o Gary V o altri la comunicazione altri che cercano di fare di ogni cosa che creano un proprio brand voi come comunicate quello che fate e vi distinguete dagli altri in questo allora sono tutte domande molto difficili rispetto proprio al mio lavoro hai capito già che faccio solo domande e poi voi andate a declinarle come pensieri che avete in test stavo prendendo tempo allora ti rispondo i primi anni abbiamo comunicato un po' come veniva nel senso che comunque è quella fase in cui sei da 0 a 1 e comunicare è meglio di non comunicare quindi io quello che ho sempre fatto è stato comunicare con uno stile che a me sarebbe piaciuto ricevere quindi leggerezza no grandi concetti pesantoni da scuola di business management tre volte blasonata dal 1824 aspetta qua faccio anche il uhuu che avete conosciuto bene vai e quindi quello che volevo fare era riuscire ad avere un linguaggio comprensibile anche a una persona mia pari perché sono convinto che di imprenditori della mia età Daniele Ratti di Fatturing Cloud nella riprova Daniele ha la mia età siamo partiti assieme ce ne sono tanti e apprezzano uno stile di comunicazione che non sia la giacca e la cravatta non siamo più negli anni 80 neanche negli anni 70 questa roba qui se sei nato con l'idea della Silicon Valley è fuori dal tempo quindi questa è stata un po' la prima parte da cui siamo partiti inevitabilmente all'inizio si è molto concentrato su di me perché Luca e Giovanni sono persone a cui questa roba non piace non che non mi supportino ma le loro io dico sempre perché siamo come quelli del mago di Oz per cui io sono Luca è il cervello Giovanni è il coraggio no Giovanni è il cuore e io sono il coraggio inteso come che non ho paura di niente non ho paura di espormi non ho paura neanche di fare brutte figure perché non ho paura del feedback se le persone mi dicono guarda che stai dicendo delle cose sbagliate li ringrazio di solito grazie per esserti preso del tempo per avermelo detto quindi sei la persona più giusta per comunicare ai giorni nostri direbbero su Rai Storia spero di sì e quindi inizialmente si è molto concentrata su di me ho fatto tanti tentativi ho fatto YouTube per un periodo prima sulle robe imprenditoriali e poi non funzionava come io credevo in realtà poi un sacco di gente mi dice che ha visto i miei video e io sono tuttora molto stupito per cui poi ero passato a fare semplicemente dei video delle mie vacanze perché mi piaceva l'idea e quello era extra belca e da lì poi abbiamo iniziato a scrivere e scrivere è molto utile nel senso che un po' ti aiuta a mettere in fila l'idea e un po' ti aiuta a farti conoscere gli altri per esempio fatture in cloud noi abbiamo trovato grazie a un articolo che abbiamo scritto un redesign che avevamo fatto per l'app di Trenitalia Daniele l'ha letto e poi anni di distanza mi ha confessato guarda Giulio io pensavo che la nostra app fosse brutta come quella di Trenitalia anche io ho detto questo è impossibile Daniele per quanto tu ti impegni è impossibile farla così male ma a parte questa questa battuta scrivere ci ha molto aiutato sia a fissare i concetti ma anche a farli conoscere quello che io oggi sto provando a fare è mettere a terra questa cosa sul resto del team nel senso che le persone con cui io collaboro sono veramente molto brave e credo che possano veramente esprimere molto io vorrei avere un team di sole persone che sono riconosciute dei loro pari come molto forti e mentre per la parte di execution sono certo che questo sia già vero per la parte di comunicazione chiaramente c'è molto da costruire in questo li aiuto facciamo tante review anche di come scrivono li supporto nella fase di presentazione in pubblico se succede sia interna che esterna mi piace essere il driver di questa crescita anche da parte loro perché arricchisce tutto il gruppo e evita di far coincidere Belka con me stesso che da un lato inizialmente andava bene perché era semplice oggi è un limite chiaro no stavo ragionando su guardavo il tuo vlog che facevi su youtube e ti volevo chiedere invece della piattaforma di twitch dove io ho fatto già due dirette la stavo sperimentando che ha delle caratteristiche molto simili al podcasting ed ha quella sensazione di laboratorio di confronto diretto con chi è in chat e ti volevo chiedere voi che avete anche questa seconda natura nel mondo del gaming cosa che esperienza state maturando cosa avete pensato cosa pensate di twitch allora nella lunga serie di cose che ho provato per la comunicazione ho fatto anche twitch per un periodo nel senso che circle of sumo che è il gioco che abbiamo rilasciato per nintendo switch e per pc ricordo tutti quelli che ci ascoltano che è gratuito quindi se volete provarlo sia per switch che per pc c'è una versione gratuita su quello abbiamo fatto il primo periodo di lockdown mi sentivo tremendamente solo e quindi ero partito e faccio una mezz'ora di circle of sumo tutti i giorni su twitch e la community era veramente molto contenta ha reagito bene abbiamo una community su discord che organizza di tornei anche in maniera indipendente sono veramente molto entusiasti ed è bello vederlo cioè sinceramente molto bello anche quello che dico sempre tutti dicono ah se è un gruppo allora è una community ma la community è diverso il seguito dalla community nel senso se sono Montemagno ho un seguito ma se vado via io non si auto-organizzano loro invece una community comunque rimane lì in piedi e si auto-organizza diventa autonoma lancia iniziative anche locali quella è una community esatto di mutuo aiuto sì anche anche perché la cosa bella è che poi tu sei un abilitatore del fatto che loro stanno facendo qualcosa e quindi infatti questa è poi la cosa che è cambiata mentre nel primo periodo io streamavo spesso ho provato un po' a farla partire perché comunque non ne avevo mai provato a far partire un gioco e quindi volevamo in qualche modo promuoverci il passo successivo è stato adesso ci sono delle persone che streamano Circle of Sumo ce ne sono state un paio anche oggi abbiamo un bot che mi scrive quando succede perché poi Twitch non si vede nulla cioè o sei in diretta o non vedi mai più niente e oggi quello che faccio sulla dimensione di Twitch della community di Circle of Sumo è quando ci sono i tornei mi scrivono io mi metto un giacchia e cravatta come se fosse un presentatore ne ho assieme a loro la cosa bella di Twitch che è veramente molto diversa dei prodotti assincroni come sono i podcast o anche gli articoli è che la gente ti può incalzare sui commenti ti scrivono sì ti metto una dura prova insomma a parte quello perché alle volte magari ti chiedono delle cose che non sai o non puoi dire devi essere anche multitasking rispondo sì ti dico il farlo è veramente demanding cioè fai veramente molta fatica la cosa bella però è che appunto è una cosa che fai tutti assieme non sei tu avanti e gli altri dietro ma è un gruppo di gente che fa le cose assieme che nel caso di un videogioco è chiassone buffa e nel caso di tornei continua a scrivere forza questo forza quest'altro vincerà sicuramente lui ed è divertente però è proprio tutto un'altra cosa è veramente molto diverso allora guarda prima che lasciamo i tuoi riferimenti Giulio e andiamo a chiudere questo episodio ti devo fare due domande che mi sono arrivate dal gruppo che sono due domande ovviamente sempre ampissime è sempre difficile rispondere bene bene un po' surreale ma non poi così distante che la prima è ed è un tentativo non è un esperimento solo per per coinvolgere anche chi mi segue chiedono quando ti si blocca il computer che è come dire cade la connessione cosa ti metti a fare? ok ti sarà capitato che eri in circostanze in cui non potevi ma allora mi viene in mente in realtà una riunione dell'altro ieri in cui hanno staccato la corrente dall'impact hub perché stanno facendo i lavori alla rete in realtà la risposta sincera è accendo l'hotspot e mi metto con la batteria e se hai impossibilitato farlo e quindi esatto sei in un'isola deserta e ti hanno rubato tutto no io ho un'agendina piccola moleschina in cui mi segno in realtà tutti gli incontri che faccio per elenchi puntati o cose del genere e cerco di razionalizzare tutto l'input che ho nel senso che poi la differenza tra quello che ti dicono e quello che intendono le persone è sempre molto ampia e quindi la uso sia per ragionare mentre parlo con la gente sia per poi tra virgolette sbobinarmi come l'università le cose e capire cosa effettivamente mi stavano chiedendo cosa stava succedendo di modo da capire i passi successivi o anche dove sbaglio quindi la risposta è cerco un po' di farmi chiarezza sulle prossime cose che dovevo fare cercare di capire se davvero avevo capito quello che mi diceva la persona che avevo di fronte sia parte del team di Belka sia persone esterne rifletto un po' su queste cose la verità è che faccio molta fatica a staccarmi l'altra cosa che faccio è leggo cerco di stare informato su come fare meglio il mio lavoro una lettura in cui ti sei immerso nell'ultimo periodo questa è mia allora c'è sì non lo trovo ce l'hai lì a portata di mano forse no mi sa che comunque sales development playbook mi pare che si chiami non ricordo quei nomi strani quei nomi strani sì no è americana però se ti viene in mente ce lo condividi e poi dopo lo mettiamo nelle note dai ma allora è molto utile ma perché appunto io sto affrontando la parte delle vendite in maniera un po' più meaningful rispetto a come le stavamo affrontando prima cioè semplicemente essendo molto amichevoli e socievoli e simpatici che però a quanto pare non serve solo questo per vendere software no l'altra cosa se non l'avete mai letta ma sicuramente l'ho citata già nel podcast the hard thing about hard things è bellissimo è il mio libro preferito su fare start up è veramente molto bello e c'è anche adesso mi hai fatto venire in mente che cercavo con lo sguardo una libreria che è un libro di sacchi credo l'arte della vendita è un libro molto bello quando l'indicazione che dico sempre a una start up quando una qualsiasi tech company qualcuno che vuole partire in un business se non sai vendere non ti consiglio così spassionatamente di iniziare però forse questo sarebbe anche un modo per tarpare le ali quindi non lo dico spesso però qualcosa di vero secondo me non è neanche tanto se non sai vendere la vera cosa secondo me è se hai paura di fare brutte figure ah ok e ritorna è la chiosa dell'osare quant'altro e di prendere coraggio ma si dice sempre che chi ha se diciamo così se hai coraggio nessuno ti copierà no ma guarda ti dico nella mia vita mi è successo veramente tante volte che per fare delle cose per me prima inconcepibili bastava chiedere bastava chiedere e alla peggio ti dicono di no o non ti rispondono neanche ma bastava chiedere se invece hai paura di fare brutte figure è difficile portarla a casa è veramente difficile e qui arriviamo dritti all'ultima domanda e poi diamo i tuoi riferimenti che è importante wow questa è una domanda un po' che mi vergogno a farti però forse no ma rispondiamo a tutti dai rispondiamo a qualsiasi cosa è proprio un po' questa persona ha avuto il coraggio di chiederlo dai diamo l'intero spazio vabbè cerchiamo di riformularla un po' comunque alla fine in soldoni è cos'è per te l'innovazione o meglio io dico come declinate voi l'innovazione perché io sento sempre più aziende che dicono no noi facciamo assolutamente innovazione quindi se per te è una parola vuota o troppo inflazionata oppure si ha perso di significato in questi ultimi anni perché l'hanno comunque sempre più svuotata di significato è stata usata un po' un po' a caso e l'innovazione per me è proprio il concetto quello by the book cioè creare del valore aggiunto con le stesse risorse che avevi prima rispetto a quelle attuali cioè fatto 100 quello che potevo fare ieri con le stesse risorse oggi faccio 110 120 150 200 1000 questo per me è innovazione poi il valore può essere semplice da misurare e per semplice intendo economico in quel caso è veramente molto molto banale e lo vedi poi sul fatturato ed è facile da misurare siamo tutti bravi a capire i soldi oppure può essere per esempio un impatto sociale noi di recente abbiamo lavorato con l'università di Zurigo per un progetto dell'OMS con loro l'impatto era totalmente sociale la parte economica era scollegata dal progetto questo non significa che non ci sia stata innovazione semplicemente in un altro settore per cui per me è fare di più con le stesse risorse che avevi ieri interessante definizione non avevo mai sentita in questa ottica bello è per quello che scegliamo persone che ci danno un'altra prospettiva un altro punto di vista va bene intanto Giulio ti ringrazio e ti chiedo di dare dei riferimenti che siano facili anche per indicare su cosa state lavorando quali sono i vostri riferimenti principali ma allora trovate Belka su praticamente tutti i social ma siamo davvero attivi su Twitter e LinkedIn se dovete sceglierne uno consiglio Twitter mentre su LinkedIn scrivo le cose un po' più boomer friendly perché è popolato da boomer su Twitter è dove imparo su LinkedIn è dove sembro intelligente quindi vi consiglio di andare sul posto dove anche io imparo su Twitter mi trovate spero scrivendo Giulio Michelon se no sono mchgli su LinkedIn sono di nuovo Giulio Michelon e Belka è belkadigital.com dove trovate tutti i riferimenti ai nostri social infine di nuovo shameless plug Spec & Tech ha il suo podcast se vi va di seguirlo abbiamo un'intervista al CTO di Satispay in arrivo che è piuttosto interessante interessante perché Satispay aveva anche un suo podcast che era particolarmente interessante non so se l'hanno hanno smesso di pubblicare mi ricordo che raccontavano adesso lo metto nelle note allora è interessante come podcast va bene intanto chiudiamo qui grazie ancora Giulio è stato un ottimo episodio e tantissime cose su cui ci si può riflettere in seconda istanza ciao e grazie ciao 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 Grazie a tutti.